Diritto civile, video lezione numero 36, nozione e classificazione dei contratti. Il contratto viene definito dalla legge come l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale e questa del resto la definizione fornita dall'articolo 1321 del Codice Civile. La funzione del contratto può assumere tre aspetti, costituire, regolare ed estinguere, costituire ossia dar vita ad un rapporto che prima non esisteva, regolare ossia introdurre qualsiasi modificazione di un rapporto già esistente, estinguere ossia porre fine ad un rapporto preesistente. Fonti ed elementi. Il regime giuridico del contratto è dettato dalla legge, dalla volontà delle parti, dagli usi. Il contratto presenta elementi essenziali ed elementi accidentali. Sono elementi essenziali del contratto, l'accordo delle parti, la causa, l'oggetto e la forma. La causa altro non è che la funzione economico-sociale cui il contratto adempie, l'oggetto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile, la forma è elemento essenziale del contratto quando è richiesta ad substantiam. La capacità di contrattare. La capacità di contrattare è l'idoneità a compiere atti produttivi di effetti giuridici che deve esistere al momento della dichiarazione. L'inabilitato non ha autonoma capacità di disporre, in considerazione del suo stato di infermità mentale. L'oggetto è il contenuto del contratto. L'oggetto del contratto è rappresentato dalla cosa o dal comportamento che è in materia dello scambio, della promessa o del conferimento. I requisiti dell'oggetto sono richiesti al momento dell'efficacia del negozio. L'oggetto deve essere possibile, cioè se l'oggetto del contratto è una cosa fisica, questa deve esistere o poter esistere. Se invece è un comportamento umano, questo deve essere compatibile con le capacità fisiche ed intellettuali dell'individuo, la possibilità deve essere sia naturale sia giuridica. Poi l'oggetto del contratto deve essere lecito, cioè non contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume. E poi deve essere determinato o determinabile. Quindi deve avere un contenuto certo ed individuato o quantomeno individuabile nel momento dell'esecuzione. Il contenuto del contratto è dato da tutto ciò che viene stabilito dalle parti per regolare i loro privati interessi. La causa. La causa è la funzione economico-sociale del negozio. Si avrà mancanza di causa ogni volta che sia inesistente l'obbligazione che il negozio intende eseguire, garantire o modificare. L'ordinamento giuridico non riconosce la validità del negozio, se non quando esso abbia una causa lecita e degna di tutela. La causa del negozio è illecita quando sia contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume. Vedasi l'articolo 1343 del Codice Civile. Alle parti è consentito anche di concludere contratti atipici o innominati, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli e di tutela secondo l'ordinamento giuridico. Classificazione dei contratti. Le più importanti classificazioni dei contratti sono le seguenti. Contratti tipici e contratti atipici, a seconda che alla singola figura contrattuale il legislatore dedichi o meno una disciplina specifica. Contratti con due parti o con più parti, cosiddetti contratti con più parti, contratti plurilaterali, contratti a prestazioni corrispettive o contratti con obbligazione a carico di una parte sola, contratti a titolo oneroso e contratti a titolo gratuito, contratti di scambio dove la prestazione di ciascuna parte è a vantaggio della controparte e contratti associativi dove la prestazione di ciascuno è diretta al conseguimento di uno scopo comune, contratti commutativi, che si dicono quei contratti in cui i reciproci sacrifici sono certi e i contratti aleatori sono contratti nei quali vi è incertezza sui reciproci sacrifici. Contratti a esecuzione istantanea, la prestazione delle parti è concentrata in un dato momento, esempio è compravendita, e contratti di durata, la prestazione o continua nel tempo o si ripete periodicamente. I contratti ad esecuzione istantanea possono essere ad esecuzione immediata o ad esecuzione differita. E poi ci sono ad esempio i contratti a forma libera e i contratti a forma vincolata. I contratti consensuali si perfezionano con il semplice consenso accordo delle parti e i contratti reali che richiedono oltre al consenso delle parti la consegna del bene. Poi distinguiamo i contratti efficacia reale che richiedono, insomma, i contratti efficacia reale che realizzano automaticamente per effetto del loro consenso il risultato perseguito e i contratti efficacia obbligatoria che non realizzano automaticamente il risultato perseguito ma obbligano le parti ad attuarlo. Contenuto della libertà contrattuale. La libertà contrattuale si sostanzia nel nella libertà di stipulare il contratto, libertà di scegliere la persona dell'altro contraente e il tipo di contratto, libertà di fissare il contenuto del contratto, libertà di dar vita a contratti atipici. Si parla invece di contratto imposto per quei casi in cui la conclusione del contratto è imposta autoritariamente dalla legge. Relativamente al contenuto vi sono alcuni casi in cui i contraenti non sono liberi di fissare il prezzo di determinati beni o prodotti soggetti a prezzo legale, ad esempio beni di prima necessità come il pane o lo zucchero. O il contenuto può risultare imposto unilateralmente dal contraente più forte per mezzo di condizioni generali di contratto, ad esempio il contratto per adesione.